Presidente Amato, la sentenza della Corte Costituzionale con la quale si dichiara illegittima la norma che impone ai figli il cognome paterno richiede adesso interventi legislativi concreti. Cosa si aspetta dal legislatore? Mi aspetto che a questo punto intervenga, devo dire la verità. La sentenza è stata adottata dopo lunghi mesi di sospensione del giudizio in attesa di questo intervento, non c'è stato ancora. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Il fatto che in assenza di accordo tra i coniugi sia automatico che si dà il cognome del padre, francamente è un residuo che quando fu riformato il diritto di famiglia negli anni 70, sostituendo all'incombenza del pater familias, dei figli, della moglie, di tutto quanto, l'accordo tra i coniugi per la gestione della famiglia è rimasto fuori, non so perché, ma era lì in attesa da diversi decenni. E' chiaro che ci sono alcune complicazioni che ne derivano. Se più di due cognomi non si possono avere, che cosa succederà per i figli? La nostra decisione riguarda il futuro, perché riguarda l'attribuzione del cognome, che ancora non sia avvenuta. Ma se viene voglia a chi è nel passato di cambiare il proprio cognome, ecco il legislatore può dire qualcosa anche su questo. Sono certo che interverrà a questo punto. Lei ha ricordato l'anniversario di un'altra storica sentenza, con la quale la Corte nel 60 riconobbe il diritto delle donne di partecipare ai concorsi pubblici. Molto è cambiato da allora, ma quanta strada c'è ancora da fare per un'effettiva parità di genere nel nostro paese? Sa, nella legislazione noi siamo andati veramente avanti. Cosa c'è da fare? Lo sa cosa c'è da fare? C'è da cambiare la cultura che i maschi, noi compresi, hanno dentro di sé, di cui non sono ancora riusciti a liberarsi. C'è la paridignità della donna che non fa parte ancora del quadro dei principi pacifici dentro di noi, per cui noi continuiamo a vedere nella diversità femminile qualcosa che in parte ci fa paura, in parte pensiamo sia espressione di inferiorità. tanti guai che arrivano poi nelle aule della legge a partire dal femminicidio, che è punito come reato, derivano da questa ancora radicata concezione di una supremazia maschile che non abbiamo eliminato. E sempre ricordando la sentenza del 60, lei ha anche detto che se ci fossero state più donne al governo, la guerra in Ucraina non sarebbe scoppiata. Cosa glielo fa pensare? Immagini lei che al Cremlino ci fosse una donna, anziché un maschio, chiunque il maschio sia. Davanti all'idea della guerra, le sarebbe venuto in mente che ci sarebbero stati dei figli condannati a morire. E questa idea che quelli che muoiono in guerra sono figli, è un'idea fortissima in ogni donna, nei maschi a quanto vediamo molto meno. Quanto possono incidere le sentenze della consulta nel cambiamento culturale del nostro paese? Hanno dimostrato di incidere. Effettivamente le nostre sentenze, a partire da quella che lei prima ha ricordato, del 1960, hanno abituato a prendere atto che le cose non stanno esattamente come la legislazione precedente aveva pensato. Fanno capire che c'è stato un cambiamento. Però rimane quello che dicevo, aiutano a portare quel cambiamento dentro di noi. E quando quel cambiamento è interamente dentro di noi, allora la missione è davvero compiuta.